Un protocollo di intesa siglato tra il comune di Arezzo e il consorzio Arezzo Fashion, rilanciare un settore portante per l'economia aretina e coinvolgere i giovani studenti attraverso la formazione e opportunità professionali. L'intenzione è di passare dalle parole e dagli iscritti a qualcosa di più, perché la crisi che ci sta attanagliando ha bisogno veramente di una grande volontà per ripartire, per cui mettere vicino le esigenze delle aziende attraverso il consorzio e con la visione e l'attivazione principale da parte del comune con il mondo della scuola per far sì che diminuisca il problema dell'occupazione giovanile. Tra gli obiettivi che sono presenti all'interno di questo protocollo di intesa c'è quello di formare i giovani studenti affinché poi possano trovare un'occupazione professionale nel territorio e non vadano altrove. È proprio lo spirito per cui è nato il consorzio questo. Fra l'altro le nostre aziende, che ormai sono una ventina, ci chiedono proprio di formare delle figure, manderanno loro i loro esperti, il loro personale, unito ai docenti dei corsi di formazione, affinché si possa uscire dal corso di formazione già con un inquadramento di lavoro all'interno dell'azienda che per l'appunto ha formato il giovane. I protagonisti in concreto di questo protocollo di intesa, di quello che ne deriva, sono gli studenti del liceo artistico. In che modo? La scuola è partner e socio fondatore del consorzio Arezzo Fashion. L'idea è molto semplice, tenere vicini le istituzioni, il mondo reale, il mondo del lavoro e la scuola, perché la scuola sia veramente funzionale alla società e al mondo del lavoro.